Un certo generale in cui i discendenti fondarono una dinastia, la dinastia degli Attalidi e l'ultimo re, oppure l'ultimo re di questa famiglia lasciò tutti i suoi beni a Roma perché aveva una grande ammirazione per Roma e i Romani. Questo avvene nel secondo secolo avanti Cristo. Il gruppo numero 12, e prego di guardare da questa parte dietro di me, dove ci sono tutte queste pietre. Queste pietre sono quelle che rimane dal Tempio di Iside. Il Tempio di Iside si trovava lì. Cioè il pritaneo della città. Queste colonne sono lisce, non ci sono scandelle. Il muro che abbiamo alla vostra sinistra è il muro dall'epoca elemistica. Dunque, le parti le più anziane, le più vecchie di questa città. Il Pino di Iside ha almeno 2.300 anni. Il Pino di Iside ha almeno 2.300 anni. I negozi, piedestali, statue che c'è, una strada, una strada, una strada, l'aiuto di Ordei, c'è Ercole con la Clave, qui sono le latrie che fanno parte delle terre. Grazie a tutti. Grazie a tutti.